Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Sabato 13 luglio è morta Shannon Doherty, l'attrice che ha lottato contro un brutto tumore dal 2015. Non aveva mai nascosto la sua battaglia e inizialmente sembrava aver vinto, ma la malattia è tornata senza pietà. Conosciuta per il ruolo di Brenda nella serie TV Beverly Hills, Novenneto di Berero, Shannon lascia dietro di sé un patrimonio considerevole. Con il cuore pesante confermo la scomparsa di Shannon Doherty. Era circondata dai suoi cari e dal suo fedele cane Bowie. La famiglia chiede privacy in questo momento difficile per elaborare il lutto in pace, ha dichiarato la sua agente Leslie Sloan in un comunicato. L'attrice, che ha iniziato la sua carriera da adolescente, ha accumulato un patrimonio notevole nel corso degli anni. Durante Beverly Hills guadagnava circa 7.500 dollari a episodio, cifra che è salita a 70.000 dollari nel reboot della Fox. Con streghe ha percepito 75.000 dollari a puntata, per un totale di 66 episodi. Si stima che al momento della sua morte il suo patrimonio ammonti a 5 milioni di euro. Oltre a diverse proprietà immobiliari, tra cui una villa a Malibu del valore di 6 milioni di dollari, Shannon ha deciso che la sua eredità sarà gestita dalla madre Rosa. I suoi tre ex mariti, compreso l'ultimo con cui si è separata nel 2020.